cosa quella partita a ok radius va bene va bene l'avete chiesto voi due va bene va bene basta che mi è quella partita è quella partita a radius anche tu dai potresti fare il radius anche tu però e prendilo ma è scavatiissimo filo si prova l'occasione vista dal gioco ho preso il muro di lì la credo fa queste me l'è morto parli tu parli prima salta e poi pensa c'è rispondi con di fianco a me e beh stando di fin da me la terra uno si fa tutti e vai vai io mi sono fatti due pure il terzo tra l'altro non è vero che pure il terzo vabbè ha capito me lo stanno versando no no terra su uno diverso è non ho capito ed i team diversi e diversi no 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 ne ho fatti due dell'altro team non ho fatto uno secondo erano più diverso mi pusciano però raccato viola raccato viola preso 5 me ne sono fatti che 4 vogliamo dire le cose come stanno una kill ma in verità una sola una kill non era mia cioè me l'ha data a caso però una sola 4 li ho fatti full lo sai che se ti con la terra e poi muore ti dà la via sì 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 lo so è mai sé che saranno forse lo hai dato di termite per sbaglio arrivano 1 arrivano io mi caccio le best seller di amazon però non c'è tra zitti zitti tutti perché è stato zitto se non sento eh fiesta mio raga io ho fatto il botto nel senso mi comprerò con le monete la skin di wraith vuoi con i materiali la posa e con i metalli no la posa vabbè forse sì con i metalli mi faccio richiedere le nevi così non le mosino più poi scopri che nell'evento fanno una skill leggendaria per l'r99 che è con lo stesso merino di tigre perché io sono un octane flanco eh flanco poi muori sì sì ne faccio altri 5 come ho appena fatto non è sempre domani infatti è venerdì 19 merdi 19 a bunker è all'entrata sono comunque io entro qua buona fortuna traccato quello che arriva con la zippe non quello l'appero ok è one shot la bengalore praticamente eh io mi metto sulla casa è uguale le ho fatto 70 eh non l'ho itata rossa poco che cazzo ne so senti io mi son fidato di chi l'hai itata prima di me ma volete evo viola qua eh ma lui ce l'ha conta che mi ha fatto tipo 150 lui ed era già viola eh ce l'avrà livellata un botto ma che è un altro team eh non li vedo da qua io però eh non posso colpire neanche lui l'ho visto l'ho visto no no è un altro team ancora sono morto io eh lo so che è un altro team no no un altro team ancora oltre il tuo da dove sono arrivato io da qua arrivo da voi e io non so da dove scappare vieni in casa vieni in casa urca eh urca si craccata la break avevo noccato la Watson di quel team stasi con me ce li facevamo eh si è noccato il pat ma ho noccato il pat dell'altro team mi sa è salito ed è buco grande 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 io qua ne ho craccato uno è un ucciso uno però fai è too late e qua sono locati in tre anni vabbè niente qua a caso totalmente a caso vai penso sia shot penso sia shot grande a caso guarda che nel caso no no ci sta esatto io dirò mica se è un filosofo sono sulla montagna del cazzo oh porca merda ora è riuscito a tornare da me così ci concentriamo non lo so non lo so ho zero batteri e lui anche dove sta il tp ma posso piccare questi senza che avete batterie in più ne ho tre ma hai lottato tutte le casse no ok trovate faccio st'ultima ciolla al volo se ne va eh perché forse sono due team ma penso di sì siamo due team ho sparato a caso uno è blu è non sa toccato e l'altro team della loba ah ma c'è l'altro team davanti sempre che vi non fai qua craccata la loba ok preso vedi il radius che furia quando sono one il radius non perdono beh no la loba era full non era one quello prima no no allora scherzi a parte il radius è che col fatto che il raggio dura un bel po' penso sia l'arma migliore per rubare le kill perché se tu stai con il raggio su uno a cui l'altro spara cioè sicuro sì sì sicuro l'ultimate gliela dai tu perché tu gli spari di continuo invece i colpi delle armi ci mettono ad arrivare qua sopra penso sia lo stesso team di prima traccato il caustic era solo bianco là il 92 viola l'altro eh no no si sono l'han capito ma in tutto questo io non mi son curato un attimo stanno curando questo da sì sì uno armor bianco uno viola hanno buttato una trappola non mi aspetto un attimo eh io sono andato però però non mi aspetto gg ce n'è dentro? forse no è sul start ah l'altro team l'altro team subito 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 un attimo mi faccio un accello è rotta la roba è andata una puntura a ult 39 viola il pat c'è la roba gg 51 viola il revenant usciamo subito hanno fatto il totem gg manca il ready c'è il revenant rega un pro si ha visto che nessuno gli sparava è uscito dal raggio per tornare a sparare è uscito dal raggio è uscito dal raggio è uscito dal raggio eh gg ah rip allora non è un pro allora è un pro seba che cazzo mi fai ma ma che non ti pushano eh ma mi ha buttato l'ultimate così a caso quasi crackato l'avrete mi pare c'è uno quasi crackato non so se fosse l'avrete per quello che non ce l'ho preso il caustic gg bravi bravi ciao Elvis come stai zizi oh devo usare sempre il radius l'ho usato poco ma porta fortuna e ti sento bene lineare curva di risposta ehm beh partito da sì questa sì nice 25 onesto madonna guarda quell'altro ma bella partita veramente allora davanti a me è davanti a me ti ho detto eh ma l'hai detto mentre lo stavo dicendo ii si tessi fatto gb disinstalla il gioco per favore cristo dio che nervi ma oh dai vediamo se lo reggo ma dimmi che non devo essere toxic io non ho trovato un armor di merda lui aveva il suo scudo corporeo il scudo arma più l'armor blu e si è fatto uccidere ma ma che cazzo è lottato ma what vabbè sarà stata un'arma senza munizioni di cera ha lottato gli sviluppatori e guardate e aspettate avete un pick up a full di k full davanti a me davanti a me traccato uno quasi a denti di scudo revenant buttiamola vabbè ma perché perché fate così ma 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 che fai ma vabbè a cosa ti stai riferendo perdonami allora no allora no peggio mi senti lancia il trampolo uh non ci arriva si eh ma io l'ho scoperto ora hai visto? scusa eh non non pensavo che da qua potessi arrivare qua sopra col trampolo appena scoperto eh esatto easy allora che non ce l'ho neanche mai provato perché ho detto è troppo in alto non ci posso arrivare qua dentro io ho la jump posso pushare arrivo 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 uno ha preso il tp presa la britta manca l'ultimo sono due team che riprendi il tp riprendi il tp riprendi il tp che palle stavano due a terra spero li facciano cristo ma perché se ne va via con la tappola di merda ma guarda la tra siamo a questo settore 140 al tp tipo fatto uno full e ho lasciato one shot un altro manca il pat manca il pat che era one shot se va ragazzoni ragazzoni ma no oddio va bene resta terra allora c'è più stones abbiamo il fattore però non potevi saltare vero non so perché perché sono morto in safe ma sarebbe da ma si può combinare in qualche modo il fatto che salti ti muovi veloce con c'è uno qua dovremmo andare in face e prendere il portale si è autoressato il mio vabbè cioè oh questi tre non li hanno fatti ne mancava uno di quelli là uno è stato confermato sono due eh sì però hanno arrestato l'altro pure sono due loro ma potremmo andare c'è la safe lontana cioè non troppo però andiamo dritto andiamo dritto e ma che guarda la safe mi sento adesso appena davanti a me al ponticello 36 blu loba 35 loba l'altro è entrato ora pesa la loba ok uno di loro due oro è un ratto è un ratto sostanzialmente però mi bastano quelli che ho vabbè tua madre allora mi sa che non l'ha capito ancora come farti nascita ma così bravi sta qua vabbè pure la tua non scherzo armor viola il gb gli ho fatto solo 12 però è un ratto 84 84 il gb viola è craccato o a 2 di scudo massimo gli ho fatto 15 84 craccato uno full e 57 rosso ad uno era un caos che le fanno il gb no no c'è anche il gb penso ah no no è vero è vero è vero era un caos che confermo presi te lo fai mi confermerà questo non ti confermo non ti confermo ma non riusciva ma scusami l'avevi fatto ritornare al totem si ah ma sei ributtato giù subito già io ho spettato al totem non l'ho trovato non l'ho trovato non l'ho trovato subito non l'ho trovato lucky l'ho provato non l'ho trovato ho sbagliato due hit poi l'ho evitato ma dovevo ricaricare le entrambe le armi vabbè l'importante è la vittoria proprio vittoria addio non l'ho trovato non l'ho trovato non l'ho trovato non l'ho trovato